Anticipazioni Isola 2018, scontro tra Maurizio e Simone Ultime news sulla puntata martedì 27 marzo, a Maurizio e a Simone, sei maligno. . Questa sera, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata dell'edizione 2018 del Cancelletto Isola dei Famosi, il reality show di Mediaset, condotto dalla presentatrice romana Alessia Marcuzzi, e dall'inviato in Honduras, il ballerino napoletano, Stefano De Martino. . In studio come sempre, ci saranno i due opinionisti, Mara Venier e il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip, Daniele Bossari. Poi, come sempre a commentare ironicamente ciò che i naufraghi fanno sull'isola, ci sarà la voce in studio della Jalapas Band. . Inoltre, nel corso della puntata assisteremo ad una nuova eliminazione, uno tra Francesca Cipriani, Simone Barbato e Franco Terlizzi, dovrà abbandonare l'Cancelletto Isola dei Famosi 2018. Duro scontro tra Amaruiz, Francesca e Simone. . Nervi sempre più tesi in questa edizione 2018, video virgola dell'Isola dei Famosi, infatti, l'ex pallanuotista Amaruiz dopo essere tornato dalla battuta di pesca trova la pentola sporca e si arrabbia con gli altri naufraghi. . In particolare, afferma che lui si dà tanto da fare sull'isola e poi c'è gente che non lava nemmeno una pentola. Però, Francesca Cipriani nel confessionale afferma di non essere una lavapiatti e che Amaruiz si sta comportando in questo modo, con lo scopo di metterla in cattiva luce e farla fuori dal gioco. . Inoltre, anche l'ex mimo di avanti un altro, Simone Barbato, dice la sua e rivolgendosi ad Amaruiz gli dice che non è che per il solo fatto che l'ex pallanuotista vada a pescare, poi, può ritornare in maniera arrogante e dare ordini e dire che gli altri devono lavare le pentole. . . L'ex pallanuotista di origini cubane sentendo queste parole scoppia e dice che Simone Barbato è solo un maligno, in quanto ha aspettato l'arrivo delle telecamere per dire tutte queste cose. Anticipazioni dei Time del 27 marzo. . Intanto, sull'isola che non cè, le due ragazza Rosa Perrotta ed Elena Morali hanno arredato la loro capanna e poi, Rosa rivela che spera di fare rimanere insieme ad Elena, in quanto, sarebbe molto strano condividere questi sola con un uomo. . Intanto, su Playa Dos, la cantante di origini sarde Bianca Azai e Alessia Mancini, hanno commentato l'atteggiamento di Nino che durante il pranzo con Valeria, ha portato via tre pezzi di pane senza però condividerli con nessuno. . Quindi, le due ragazze hanno ritenuto che questo gesto sia un'assoluta mancanza di gentilezza, ma soprattutto di umanità. Questo perché essendo un po' tutti i naufraghi in condizioni di fame, sarebbe bastato un piccolo gesto per farsi apprezzare e invece Nino non l'ha fatto. .